Dieci progetti nati dalle direttrici del protocollo del 6 novembre del 2014 per tre macro-aree prioritarie in tema di riqualificazione urbana, spazi aggregativi e riqualificazione della portualità territoriale. Si tratta delle proposte della Giunta Comunale di Gela sull'utilizzo dei fondi di compensazione dell'ENI illustrate in conferenza dei capi gruppo. L'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano ha chiarito che la logica degli interventi è volta a coadjuvare lo sviluppo dell'attività fronte mare, incentivando il recupero funzionale da un lato e la nascita dall'altro delle appendici portuali di carattere turistico ed industriale sul Mediterraneo, fondendo attraverso interventi strutturali le due sorgenti di ricchezza del territorio gialese, quali le spiagge dorate e la bellezza del centro storico federiciano. Il passaggio con i capi gruppo era d'obbligo per l'amministrazione, per un primo confronto prima di andare in Consiglio Comunale per parlare e mostrare quello che l'amministrazione intende sviluppare con una parte degli ioni di compensazione. Sono state individuate tre macro aree con priorità diverse che fondamentalmente abbracciano la logica degli ioni di compensazione così come previsto dal protocollo d'intesa. Si tratta quindi di investimenti che riguardano lo sviluppo economico della città, alternativo alla presenza industriale, con un affaccio alla sostenibilità energetica, all'aggregazione sociale e soprattutto per quello che riguarda la tutela della salute. Quindi la nostra intenzione soprattutto per quest'ultimo punto è fare i passaggi d'obbligo per cercare di capire se è possibile istituitare ad esempio un centro di ricovero e cura vista la gravità della situazione di alcune patologie presenti in città. Ovviamente stiamo cercando di puntare molto sul fronte mare per quello che riguarda le appendici portuali, cioè il porto rifugio e il porto industriale per cui da tempo l'amministrazione si muove all'interno dei messaggi e delle infrastrutture per trovare una soluzione per dare vitalità al combattimento industriale. Come dicevo i centri di aggregazione partendo ad esempio dai salesiani, ristrutturando alcune parti di uno degli oratori più storici della città come appunto dei centri di aggregazione storica ma passando anche per uno stello della gioventù presente proprio sotto la casa comunale che possa servire da unione per le due parti della città cioè il fronte mare e il centro della città che per l'amministrazione rappresentano le due sorgenti di ricchezza alternative del territorio.